Quanto è di questo nuovo servizio che offre l'amministrazione comunale? Ancora dovrei veramente vedere la prima volta. Penso che sia un ottimo servizio. Si avrà uno sfunto sulla TAI, lo sai? No, questo non lo sapevo. Ecco, quindi potrà avere questo sconto in base a tutto quello che lei peserà qui all'amministrazione. Va bene, grazie. Prego. Siamo con Francesco Terami, che è un operatore di AMB, che è accanto anche di questo servizio. A lui chiediamo come funziona. Spiegare il sistema e come funziona il servizio. È un sistema molto semplice. È un semplice POS collegato con una banca dati dei contribuenti bagheresi. Il contribuente viene qua, pesa il rifiuto differenziato, classica, cartone, lattine o vetro. E viene applicata una scontistica sull'Atari in funzione appunto della quantità di rifiuto da lui. Quando possono venire i cittadini che all'androtti? Allora, tutti i giorni, tranne il venerdì e la domenica, dalle 6 di mattina fino alle 12. Grazie. Lo prego.